Musica Con noi il dottor Raffa per questo momento dedicato alle donne, alla loro sopravvivenza ma anche ai giovani. Quale futuro stiamo dando, dottor Raffa? Beh, stiamo dando un futuro certamente poco rosio, anzi piuttosto nebuloso per non dire nero, senza così essere troppo pessimisti. Per quanto riguarda il discorso di genere sulle donne, oggi i giovani maschi sono pericolosi tanto quanto lo erano i loro padri, i loro antenati. È un problema culturale, è un problema familiare, dunque pedagogico, che nasce in famiglia perché la violenza si apprende oppure viene vissuta sulla propria pelle. Dunque bisogna intervenire a tanti livelli. Primo in famiglia ovviamente, cercando di restituire al padre il proprio ruolo, alla madre il proprio ruolo, evitando la crisi della famiglia. E poi la scuola, la scuola ha un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione nei confronti di ciò che sta accadendo alle donne, perché l'ultimo femminicidio è proprio di ieri, è successo a Milano e bisogna davvero intervenire, è qualcosa di estremamente grave. Per quanto riguarda i giovani e i ragazzi, anche lì occorre intervenire, serve un piano marshal educativo che coinvolga prima le famiglie, poi le scuole, con interventi ad hoc relativamente alle ultime due generazioni che sono quelle che soffrono di più. Questo libro che lei ha fatto adesso è uscito, come mai? Questa lunga riflessione, cosa è data? Sì, è una riflessione lunga, come giustamente sottolinea lei, se il libro si intitola Fuori dalle bolle social, perché i ragazzi si chiudono nelle tecnologie, vivono in un mondo tutto loro, è molto complicato, difficilissimo per le famiglie intercettare le emergenze, le esigenze, le motivazioni che stanno alla base dei comportamenti, perché le famiglie non conoscono i ragazzi e questo è il problema. Allora che cosa bisogna fare? Lo spiego in questo libro. Occorre studiare il mondo delle tecnologie, le bolle dei ragazzi, capire come funzionano e poi educare i giovani con nuove abilità pedagogiche e tecnologiche appunto per poter essere presenti dal punto di vista delle famiglie e dal punto di vista delle scuole che hanno un ruolo ovviamente fondamentale anche in questo. Con noi Cetti Giannoni. Allora, cosa fare per tutelare le donne? Cetti. Allora, bisogna ancora fare tanto. Bisogna aprire tra l'altro anche una parentesi sulle donne con disabilità che subiscono violenza. Quello che stiamo provando a fare attraverso l'apertura di uno sportello donne in cui accogliamo donne con disabilità che subiscono violenza, ma cerchiamo anche e soprattutto di fare informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli. Quindi sensibilizziamo e sensibilizziamoci. Proprio oggi tre femminicidi. Come fare? Come educare veramente le menti malate a non reagire in questo modo? Bisogna partire sicuramente dai più piccoli. Bisogna lavorare sui più piccoli, bisogna aiutare i più piccoli e imparare a empatizzare con il prossimo perché manca proprio la sensibilità. Ma non è solo questo. Questo diciamo che è un argomento molto vasto. Le cose da fare sono tante. Bisogna capire che la donna ha gli stessi diritti rispetto all'uomo, lo deve capire non solo l'uomo ma lo deve capire anche la donna stessa, imparando a rispettarsi e a farsi rispettare. Grazie a Cioetti Giannone, buona lotta e buon servizio. Grazie, buona lotta a tutte. Con noi Serena Carnemolla, Presidente del Caffè Letterario Federigiano Coffa. E allora, la nuova Mariannina di Noto? Mariannina è una figura di riferimento ed è un grande esempio per molte donne. È una figura alla quale non è stata data abbastanza voce perché è una donna che ha lottato, ha sofferto, ha combattuto prima di tutto con se stessa, ha vissuto una società in cui gli uomini ascoltavano ma soltanto per sentire, non con il cuore. Quindi l'idea di questo caffè letterario che Conrado Armeri ha deciso di affidarmi come presidente è proprio quella di ridare voce alle donne che hanno perso la voce. L'hanno persa per paura, per stanchezza, le donne che soffrono nel loro cuore la mancanza dell'affetto e dell'ascolto. E fare rete, fare rete e creare adesso un nuovo, ridare un nuovo volto, ridare una nuova voce, ridare una nuova prospettiva attraverso, io spero, concorsi, attraverso concorsi letterari, momenti di confronto, lettura, studio, rete fra donne. Tornare ad essere quella magnifica maglia stellata del firmamento sotto gli occhi attenti di Mariannina. Serena, stasera presenti un nuovo libro? Questa sera presenterò Fronde primigenie, una raccolta di racconti che parte dall'inizio della mia passione per la scrittura dai 16 anni e arriva fino ad oggi. È una raccolta di racconti che parlano di tante figure di donna, donne che hanno sofferto, donne che hanno combattuto, donne che hanno vinto, donne che combattono in primis contro se stesse, donne che vincono le paure, donne che vincono mostri ineguagliabili, donne che a momenti si sentono sconfitte, ma che alla fine trovano sempre un elemento angelico che riesce a tirarle fuori dal loro oblio. Questa sera parleremo anche di Fronde primigenie, questo giardino dell'anima che porta dei frutti meravigliosi per chi sa accoglierli. Con noi è Antonella Modica per parlare di donne, la sopravvivenza, oggi tre femminiciti, insomma non si può vedere la fine? No, purtroppo no, speriamo, nonostante ci siano le leggi a tal riguardo, ma ancora non troviamo la fine a questo eccidio quasi, mi viene da dire. Io sono un'insegnante, sono referente per opportunità nella mia scuola, il studio comprensivo Antonio Amore di Pozzallo e sono anche una delle socie della Casa delle Donne di Cicli. Il nostro punto di vista è l'azione, l'educazione è l'azione, l'educazione a scuola attraverso le attività che si propongono ai ragazzi. Noi a scuola abbiamo proposto il laboratorio Mimosa che è un grande scatolone con attività diverse ogni anno. Collaboriamo tutti gli insegnanti dei vari segmenti, quindi infanzia, primaria e secondaria. Mentre come socia della Casa delle Donne portiamo avanti il discorso che la presidentessa Melania Gruba pone, cioè le donne che devono lottare per le donne. Infatti la Casa delle Donne a Cicli è una grande realtà che serve non solo per aiutare contro la violenza, ma per aiutare in generale anche i bisogni di primaria necessità. La scuola deve fare tanto perché è da là che parte e noi partiamo dai bambini dell'infanzia, con i giochi di genere, tutto adeguato a loro. Quest'anno abbiamo lavorato con la Divina Commedia, abbiamo parlato delle donne nella Divina Commedia, puntando appunto sul valore che queste hanno già dai tempi di Dante. Ovviamente i bambini hanno imparato a conoscere e ad apprezzare queste figure. Usiamo un po' l'attività ludica per i bambini più piccoli, mentre un'attività più impegnata attraverso delle ricerche, che sono delle figure più importanti della Divina Commedia, ad esempio come abbiamo fatto quest'anno, e quindi usiamo questo modo di agire. Negli anni passati abbiamo creato un laboratorio e una biblioteca tutta femminile, con i libri in cui le protagoniste sono donne oppure sono esseri femminili. In classi ad esempio vieto di dire femmina, le mie compagne le femmine, perché le femmine ha più a che fare col biologico, mentre le donne, le ragazze, è un ambito più ampio, perché soprattutto hanno a che fare con le emozioni, con quello che una donna possa essere. Con Valentino De Jesu, presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, i carabinieri e l'Associazione Nazionale Carabinieri a difesa delle donne, Valentino? Diciamo che siamo sempre in prima fila, abbiamo fatto tantissimo in questi anni per cercare di risolvere il problema del femminicidio in modo molto approfondito, sia nella divulgazione, durante le riunioni che abbiamo fatto con le donne, e soprattutto con gli uomini che si credono di essere uomini, ma alla fine io dico sempre che l'uomo, se è un vero uomo, deve rispettare le donne, anche perché non dobbiamo dimenticare che noi nasciamo grazie al dolore delle donne, alla sofferenza delle donne, quindi dovremmo essere molto più dolci e più affettuosi. E purtroppo in questo periodo stanno aumentando ancora di più invece i femminicidi ed è una fase molto preoccupante. La magistratura fa la parte sua, però purtroppo sono i politici che dovrebbero aumentare le pene e dovrebbero incentivare delle risorse per poter riuscire a combattere questo problema. È difficile, non è facile, io mi sono trovato nei 40 anni di servizio a intervenire in certe situazioni che veramente sono sconvolgenti. Purtroppo la realtà è questa, ma non ci dobbiamo arrendere, non dobbiamo mai fermarci e non dobbiamo farci mai intimidire da questi uomini. Pertanto dobbiamo combattere giorno per giorno e dico sempre viva le donne. Con noi Roberto Cataudella per quanto riguarda i Lions Club, tu sei il presidente. Allora Roberto, una battaglia che accomuna tutte le associazioni per la difesa delle donne? Assolutamente sì, innanzitutto grazie. Questa è un'impresa che dobbiamo portare avanti assieme, dobbiamo ragionare in rete, dobbiamo cercare di sconfiggere completamente la problematica nell'arco del più breve tempo possibile e questo perché? Perché lo dobbiamo innanzitutto alle nostre figlie. Noi dobbiamo lasciare loro un mondo sicuramente migliore rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, non dobbiamo esserne succubi. Quindi un'iniziativa di questo genere ci porta sicuramente verso la risoluzione che non tarderà ad arrivare ma che comunque dobbiamo lavorare per poterlo ottenere. Quindi io ringrazio ancora voi Templari per poterci, innanzitutto per avere dato quest'input di far rete su questo problema e sono sicuro che ne verrà fuori sicuramente un grande risultato. Conneggio Sincatasciato per questo evento Donne per le donne, Presidente della FIDAPA. Allora, Presidente, quale battaglia fare? Le donne non dobbiamo mollare mai, non dobbiamo mollare, esprimere noi stesse nel privato, nel pubblico e soprattutto le istituzioni, le scuole, le associazioni devono avere cura sempre di ottenere la parità di genere in complementarietà con gli uomini, perché non è una battaglia che possiamo fare solo le donne. Educare sin da piccoli, sia i maschietti che le femminucce. I diritti delle donne non devono essere privilegi, non ci devono essere più diritti negati. Questo è quello che dico alle bimbe, alle mie alunne, a tutti, ai miei alunni, che non si deve mollare mai. Dobbiamo andare avanti forti e guerriere. Con noi Paolo Monaco, che questa sera ci parla della donna, del feto, insomma del bambino che cresce già dentro la donna e quindi questa donna importante. Sì, molto importante. La funzione della donna per me è la funzione sociale più importante, perché dipende dall'avvenire di una nazione, dipende pure dall'educazione del feto. Significa che è un problema pedagogico e che purtroppo la filosofia, la pedagogia, le psicologie, purtroppo fino adesso non hanno mai trattato questo argomento così delicato e così importante dal punto di vista pedagogico e dal punto di vista sociale, perché se il rapporto è positivo tra la mamma e il feto, nasce un neonato sereno e tranquillo. Se la mamma è nervosa, nasce un neonato nervoso. Per cui la società, che è il risultato di tutte le relazioni sociali che intercorrono fra tutti noi, praticamente succede che la società è quella che è. Noi non possiamo, non abbiamo il diritto di dire che la società è violenta. No, siamo noi, perché la società è il frutto delle relazioni sociali, di tutte le nostre relazioni sociali. Per cui nasce una società responsabile, civile, oppure violenta, quella che c'è oggi. Donna per le donne, Maria Concetta Civerno, in rappresentanza dell'Istituto Santa Alessandra. Allora, Maria Concetta, la vostra battaglia per la difesa delle donne e dei bambini? Allora, buonasera a tutti. Oltre che portare i nostri saluti, i saluti dell'Istituzione Scolastica Santa Alessandra, in particolare del dirigente Salvatore Lupo, Noi siamo qui, insieme a Giovanna Di Pasquale e mia collega, per portare la nostra esperienza di insegnanti, fermamente convinte e convinti, anche gli insegnanti ovviamente, che non si può pensare di combattere una battaglia a metà strada, quando i ragazzi sono già grandi, perché lì è soltanto come un rattoppare in qualche modo. Ma il problema va sicuramente affrontato alla fonte e andare a cercare a sopperire o rimediare quei, tra virgolette, buchi che lasciano purtroppo le famiglie, che magari non sono alcune, per carità non tutti, alcune non sono ancora abituate, voi per formamenti, se per culture, per rodaggio, insomma, andare a lavorare sulle menti ancora piccole, ancora giovani, laddove c'è bisogno, perché questo problema va affrontato fin dalla più tenera età, fin anche dalla scuola dell'infanzia. Il rapporto tra bambini e bambine deve essere ugualitario, paritario e non ci deve essere quella sorta di differenze, perché certe volte anche noi insegnanti non ci rendiamo conto, nei nostri comportamenti, di farle queste differenze, quindi dobbiamo educare ed educarci al rispetto del prossimo e delle bambine e delle ragazze in particolare.